Tutti quanto influiscono gli astri in amore? In questo video voglio parlarti dell'influenza dell'astrologia in amore. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema. Quanto contano gli astri in amore? Quanto conta l'astrologia in amore? L'influenza degli astri? Allora, beh, dobbiamo dire che alcune caratteristiche sono importanti. Ovviamente ci sono persone che vanno molto in dettaglio. Io non credo che andare così in dettaglio sia fondamentale. Ad esempio c'è la sinastria di coppia. Diciamo, la sinastria di coppia è come, diciamo, partire, diciamo, dall'etimologia della parola, perché capire cosa significa sinastria di coppia, significa confronto tagli astri. Ed è un sistema astrologico che un po' simile, diciamo, al tema natale, però fatto in coppia, serve a definire l'affinità di coppia. È una sorta di oroscopo personalizzato di coppia. Ora, in realtà si può procedere anche a questo, ma io credo che non sia necessario fare questo. Sicuramente la sinastria di coppia ti dà una visione più profonda, perché il tema natale, ad esempio, dà informazioni sulla singola persona. La sinastria di coppia cerca di fare un quadro d'insieme, facendo una sorta di mix tra i temi astrali delle due persone e cercando di indagare su quanto ci sia di compatibilità. Ora, io non penso che sia necessario questo, anche perché comunque quando una coppia arriva a fare una cosa del genere, è perché già comunque ha realizzato un, diciamo, ha già intrapreso un percorso di coppia. Certo, uno dice, io lo posso fare di nascosto dall'altra persona, basta sapere quanto, diciamo, quando è nato, esattamente l'ora, la data, eccetera, il luogo, che poi magari uno può chiedere, dice, tanto per la storia dell'ascendente. Però, diciamo che da un punto di vista poi karmico non sarebbe neanche tanto corretto fare l'insaputo dall'altra persona. E comunque, potrebbero essere dei risultati davvero fuorvianti, nel senso che esiste sempre il libero abito. Io credo che l'astrologia di coppia sia utile più a livello di gioco, come tutte le tecniche, perché, diciamo, anche una compatibilità di un certo tipo, una visione, diciamo, non so, psicologica per dire, non so se gli psicologi fanno dei test di coppia, eccetera, ma poi alla fine lasciano il tempo che trovano, no? Cioè, farsi condizionare dal test non ha senso. Intanto, allora, il discorso è che se una relazione funziona o non funziona, tu te ne rendi conto quando interagisci con questa persona. Perché teniamo presente che poi anche piccole variazioni di una persona o dell'altra possono generare grandi variazioni nel rapporto di coppia. Quindi, beh, come indicazioni di massimi, invece, l'astrologia può essere sicuramente utile. Ci sono segni che è molto probabile che siano abbastanza incompatibili tra loro e segni che sono sicuramente più compatibili. Ad esempio, un segno di terra come il capricorno, ad esempio, con i segni di fuoco, non ha tutta questa, per così dire, affinità. Non ha questa affinità, mentre ha più affinità, ad esempio, con i segni di acqua in generale. Ma, però, questo non vuol dire che non possa funzionare una relazione. Assolutamente. Quindi, io, al di là dell'astrologia che potrebbe anche dare un'indicazione o comunque di massima, quando conosci una persona, su come, magari, qual è l'indole di questa persona. Ma è soltanto sperimentando, è soltanto interagendo, liberandosi la mente da ogni preconcetto e da ogni pregiudizio. Perché poi il rischio è che le persone si creino delle profezie autoaverantesi, no? Cioè, ho sentito che, che ne so, tra capricorno e, che ne so, e bilancia le cose non vanno bene e quindi magari non vanno bene davvero. Quindi, direi che è vissuta come un gioco, è divertente. L'astrologia dà anche delle indicazioni utili, soprattutto a livello di conoscenza dell'altra persona. Perché ti dà delle indicazioni, facciamo l'esempio del leone, sull'egocentrismo, su tenere un po' il centro d'attenzione. Può dare delle indicazioni operative utili, come non soltanto questo, anche, come dire, i canali comunicativi della pianella, ad esempio. Ma sì, uno dice un c'è anestesico e un visivo, probabilmente non avranno, che non c'entra con l'astrologia, probabilmente avranno dei disaccordi. Ma il che non vuol dire che la relazione di coppia, comunque, non possa o non debba per forza funzionare. Potrebbe funzionare benissimo. Dipende anche molto dalla comprensione e dalla capacità di adattabilità di una persona. Ma anche persone con imprinting, magari simile, normalmente non dovrebbero funzionare. Cioè, una persona che ha avuto un imprinting materno, con un'altra che ha avuto un altro imprinting materno, normalmente non funzionano. Però bisogna stare sempre a osservare, se no, si rischia di fare la fine del calabrone, no? Cioè, anzi, il calabrone non ha fatto quella fine, no? Quando ci sono studi, validissimi studi scientifici, che hanno dimostrato che il calabrone, per quanto riguarda, tenendo conto del suo peso specifico, della sua apertura ladre e di tutte le sue caratteristiche, studi scientifici hanno dimostrato che il calabrone non può volare. Però c'è un dato di fatto che il calabrone vola. E sapete perché vola? Perché lui non ha letto quegli studi e quindi se ne frega altamente di quegli studi e continua a volare. Quindi non lasciamoci condizionare, non lasciamoci condizionare. Noi spesso siamo veramente condizionabili da giudizi. Quindi l'astrologia è bella vissuta come gioco, ma qualunque altra forma, ovviamente, anche la lettura dei tarocchi, eccetera, è bello viverla come gioco, come presa d'atto, ma per adattarsi, per capire un po' chi sia davanti. Ma poi le relazioni possono funzionare o non possono funzionare, indipendentemente da tutto. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto mettere un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!